buongiorno a tutti allora film pettina da brun che freddo che fa anche perché è freschino fa ancora freschino signori anche se oggi devo dire che ero in giro c'è il sole si sta ancora ancora bene come il sole si nasconde dietro le montagne arriva il frescolino arriva arriva il bel frescolino come direbbe il don cherubino che fa anche rima comunque lasciamo perdere il don cherubino perché dobbiamo parlare di sci discesa libera femminile di cortina da un pezzo andiamo a vedere come è andata perché la prima a scendere è l'austriaca miriam puchner vediamo quale sarà il suo tempo che poi è quello di riferimento anche il primo da battere il suo tempo finale 10735 una discesa bisogna dire molto molto breve se pensiamo che i maschietti arrivano quasi a due minuti di discesa libera qua una discesa di un minuto e 07 proprio poca roba poca roba però è sempre tosta siamo a cortina e siamo a cortina tocca alla simenhofer pettorale 3 sfidare la connazionale per il primo posto provvisorio naturalmente perché è la terza scendere devono scendere buona prova si prende al primo posto con 17 centesimi di vantaggio ma come dicevo prima siamo solo all'inizio vedremo cosa combineranno le altre perché adesso è lei o non è lei e lei e non è lei certo che lei la nostra ragazza razzo missile jet si trasforma in un razzo missile che lasciamo perdere quello era goldrich ma però volendo si trasforma in un razzo missile la sofia goggia mettete voi quella che preferite mettete da ragazza jet ragazza razzo ragazza missile quello che preferite o sennò scegliete anche un altro mezzo di trasporto velocissimo perché è sofia è sofia pettorale numero 7 gara sempre come sempre da sofia goggia qualche errorino di troppo quella ma come fa come fa scivolare lei lo sci come lo lascia correre lo lascia andare non ci riesce nessuno e lei come sempre va giù a cannone a missile a jet eccetera eccetera si prende al primo posto con 20 centesimi di vantaggio non so se saranno sufficienti o meno però però e intanto è prima tocca a federica brignone stava facendo molto 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 bene ma una scivolatona poi lei è riuscita a tirarsi su perché quando sembra che sta per cadere fa è l'alberto tomba dello sci femminile riesce a tirarsi su con un colpo di da maestra però ha buttato via la gara e infatti è solo settima a uno e diciotto tenendo conto che aveva il pettorale number eight quindi penultima vedremo poi a fine classifica il distacco non è altissimo un secondo e diciotto teoricamente dovrebbe potrebbe riuscire a stare nelle 15 15 20 più o meno vedremo dipenderà dalle altre tocca la nostra piccolina nadia de lago dopo una prima parte così così tiene bene nella seconda e le decima con un ritardo contenuto di 1 e 24 a soli 6 centesimi da federica brignone ma a 1 e 24 da sofia goggia sicuramente andrà a punti però diciamo che non erano molto soddisfatti i commentatori della gara della nostra di col si della nostra nadia erano diciamo moderatamente soddisfatti ecco diciamo che per nadia erano moderatamente soddisfatti adesso però bisogna vedere cosa farà la sua sorella più grande la piccola di col de lago diciamo che per nadia comunque è tanta roba di col anche lei una gara così così fa meglio della sorella e fa meglio della sorella minore di 14 centesimi ma è fuori dalle 10 e in undicesima posizione con un ritardo di 1 e 10 secondi di ritardo ecco per lei diciamo che i cronisti non sono stati molto soddisfatti con nadia diciamo data bene data benido nicole anche perché ci si aspetta sempre tanto da nicole però attenzione che nadia dicono che sia leggermente più bravida però è una bella sfida tra le due sorelle che si fogliano un gran bene tocca la nostra Elena Cortoni purtroppo anche lei come precedentemente la gutt berami prende vento in faccia contrarissimo e termina la gara con lo stesso tempo di nicole de lago quindi è undicesima anche lei a pari merito con la piccola non la piccolina che è nadia ma la piccola tocca la nostra Marta Bassino dopo un buon inizio commette un errorino e non riesce più a riprendersi tira come si dice il freno a mano e termina la gara 2 0 6 sedicesima e non va bene non va bene troppo 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 distacco dopo la discesa di delle prime 20 atlete questa è la classifica prima goggia seconda simenhofer terza ledex ledexca quarta corinzuter quinta pucner sesta gisin settima bovinkel ottava la gutt berami incazzatissima permettetemi il termine proprio perché ha beccato questa affolata di vento che le ha rovinato la gara donna la guida stessi decima la stueck tocca alla helen pettorale 29 ma purtroppo cade fortunatamente senza nessuna conseguenza peccato perché nelle prove era stata quarta ma la gara si sa è un'altra cosa tocca la nostra Franceschino a Marsaglia pettorale numero 30 ma purtroppo sbaglia subito in alto e termina la gara con ben due secondi e 0 2 di ritardo ed è soltanto ventottesima la classifica dopo la discesa delle prime 30 atlete appunto vede la goggia sempre prima la simenhofer è seconda la ledexca è terza la suter è quarta la putner è quinta la gisin è sesta la reisgre si è inserita al settimo posto la bovinkel è ottava la gutt berami è nona e la widol è decima la classifica rimane delle prime 10 rimane invariata anche al termine della gara quindi non ve la sto a ripetere cambiano un attimino le posizioni delle nostre atlete dopo la decima posizione la cortoni e la delago sono quattordicesime ci si può anche accontentare la brignone diciannovesima incazzatissima la delago nadia ventesima e va bene così senza parole fuori dalle 30 la marsaglia trentaseiesima la benesi che è uscita e anche la stessa no loro due basta sì esatto detto questo ragazzoli goggia libidine è come sempre l'ennesima vittoria della goggia in discesa libera è andata un po' meno bene alle altre però in ogni caso abbiamo a parte la goggia delle prime dieci ne abbiamo anche altre cinque una due altre quattro delle prime venti perché cortoni e delago sono quattordicesime a pari merito la brignone diciannonesima e l'altra delago è ventesima detto questo ragazzoli ci vediamo alla prossima ciao ciao